A tutti voi buonasera dal Tg Max, il sindaco di Chieti Umberto Di Primio ha interrotto questa sera lo sciopero della fame davanti a Palazzo Chigi contro il rischio di soppressione della provincia di Chieti. Il sindaco sarà ricevuto domani dal ministro Patroni Griffi. Ma non potevo accettare che finisse tutto così come in modo assolutamente piatesco era capitato in Consiglio regionale, per questo questa mattina ho deciso di venire qui a Roma, di venire davanti a Palazzo Chigi dove si è riunito, si sta ancora riunendo il Consiglio dei Ministri per far sentire forte la protesta di un intero territorio, della provincia di Chieti, della città capoluogo e anche la mia protesta estrema. Di dire che non avrei assunto cibo, quindi con lo sciopero della fame fino a quando non avessi avuto un segnale dal governo è stata una protesta che ho voluto fare perché ritengo che per Chieti e per la sua provincia si debba fare tutto quanto è necessario per evitare che possa tutto finire in un silenzio assordante. Abbiamo i requisiti, lo abbiamo detto più volte, in Abruzzo sono altre le province che devono essere accorpate in ragione della mancanza di requisiti, il governo ha indicato questi requisiti, io mi dimito a dire che li voglio seguire. Allora se così è Chieti non può essere accorpata, Chieti non deve essere accorpata, Chieti non deve essere riordinata, ma il territorio, l'intera provincia devono rimanere così come sono ed altri si accorpino e facciano in modo di rispettare i requisiti. La notizia, se posso così dire, positiva, la prima notizia positiva da questa mattina è che qualche minuto fa sono stato contattato dal ministro Padroni Griffi, il quale mi ha fissato un appuntamento domattina alle 8 e un quarto. Questo appuntamento è un appuntamento importante perché è contestuale alla non trattazione da parte del governo della vicenda riordino delle province, quindi domattina spero di poter consegnare al ministro le ragioni del nostro territorio, di fargli comprendere come sia per noi importante che questo riordino non passi attraverso la soppressione della provincia di Chieti e quindi l'auspicio è che per davvero questo governo tecnico possa anche avere la sensibilità di ascoltare i territori e soprattutto di ascoltare il mio tramite il nostro. Sindaco, lei ha ricevuto solidarietà da più parti, anche dal presidente della provincia di Chieti che non è venuto a Roma però le ha scritto una lettera, però ha ricevuto la solidarietà anche da diversi cittadini. Sì, è stata una cosa straordinaria, grazie soprattutto a questi nuovi mezzi di comunicazione, social network, facebook, abbiamo avuto possibilità di essere in contatto costante con la gente e la solidarietà è stata talmente tanta che per questa sera dei cittadini abruzzesi di Chieti che vivono qui a Roma, addirittura si sono offerti di ospitarmi per la mia permanenza qui, visto che domattina dovrò incontrare il ministro Padroni Grissi, quindi rimarrò qui a dormire a casa di questi signori e chiaramente con loro trascorrerò una serata all'insegna della creatività e dell'abruzzesità, visto che è il motivo che poi ci ha portato di incontrarci oggi, però questo. Nuova condanna per i crolli del terremoto all'Aquila, con l'accusa di omicidio plurimo e disastro colposo il giudice monocratico ha condannato a tre anni di reclusione Augusto Angelini, 85 anni. L'uomo progettò e diresse i lavori di due palazzi adiacenti via Sturzo dove morirono 27 persone. Tre anni di reclusione, risarcimento delle spese legali e provisionale per il risarcimento ai parenti delle vittime. Questa è la sentenza emessa dal giudice ordinario Giuseppe Grieco nei confronti di Augusto Angelini, direttore dei lavori per gli edifici crollati al civico 33 e 39 di via Luigi Sturzo, unico imputato ancora in vita. Angelini, per il giudice dunque, è il responsabile dell'omicidio colposo di 27 persone, morte nell'inferno di ferro e calcestruzzo dei due stabili edificati nel 1962. Una sentenza in linea con quanto richiesto dal PM titolare dell'inchiesta, Fabio Picuti, che nella sua ringa difensiva aveva sottolineato tutte le criticità imputabili proprio da Angelini, oggi non presente in aula perché contestualmente era in ospedale per sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico al cuore per l'inserimento di un pacemaker. Una difesa difficile quella di Angelini per testa a missione del suo legale, Augusto Di Sano, che ad ogni modo nella sua ringa difensiva ha evidenziato violazioni procedurali nel processo, come la mancanza dell'incidente probatorio. Una tesi questa subito smontata da Picuti nella sua stringata ma al contempo dettagliata risposta, che di fatto ha sottolineato come non si poteva procedere all'incente probatorio, visto che sul posto erano giustamente intervenuti vigili del fuoco che hanno portato soccorsi ai pochi feriti e estraendo dalle macerie i corpi di 27 persone, tra cui la moglie e la figlia di Vincenzo Vittorini, presente anche lui in aula oggi insieme ad altri parenti delle vittime. Una contestazione quella mossa dal difensore di Angelini alla quale Picuti ha replicato dicendo che le parti dell'edificio rimaste integre erano state sapientemente catalogate e trasportate in un capannone al chiuso per qualsiasi tipo di riscontro futuro si volesse fare. Con questa condanna di primo grado si conclude il secondo processo del maxifilone dei crolli derivanti dal terremoto del 6 aprile 2009. Il primo, lo ricordiamo, è stato quello relativo al crollo di via generale Francesco Rossi. La Commissione Grandi Rischi ha sospeso le dimissioni ed ora è di nuovo operativa. La decisione arriva in seguito alla lettera inviata dalla Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio al Capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. La lettera, ha spiegato il Presidente della Commissione Maiani, contiene un'apertura cauta alla possibilità di studiare nuove regole a tutela della Commissione Grandi Rischi in relazione all'emissione di pareri scientifici su questioni molto controverse. Una lettera considerata dalla Commissione un segnale molto importante e incoraggiante alla luce della nuova situazione e quindi le dimissioni sono state sospese. E torna la paura all'Aquila, dove la scorsa notte intorno alle 3 si è registrata una scossa di magnitudo 3.6 scoppito, barete e pizzoli, le località prossime all'epicentro. Torna a farsi sentire il terremoto in città, in piena notte e all'arrivo del grande freddo, che impedisce anche ai più spaventati di passare la notte all'addiaccio o in macchina. Gli Aquilani, svegliati dalla scossa, non particolarmente forte ma ben avvertita in città, si sono collegati sui social network per scambiarsi impressioni tra chi teme per un ritorno dello sciame sismico che ormai affronta le scosse facendo spallucce e chi con una battuta cerca di esorcizzare la paura. Coincidenza curiosa, il terremoto di 3.6 della scala Richter, con epicentro alla periferia ovest della città, torna a farsi sentire all'indomani della pubblicazione della notizia, che dice che centinaia di isolatori sismici, sistemati da una delle ditte che si è giudicata all'appalto del progetto case, si sbriciolerebbero in caso di un forte terremoto. Hai sentito la scossa di questa notte? Sì, abbastanza. Cosa hai fatto? Sei rimasto in casa? Sei uscito? Ma, mi sono addormentato a fatica perché un po' non sapevo se avevo sognato oppure se... era una scossa vera. Ti sei spaventato? No, spaventato no, però comunque un attimo sono stato lì, sai, c'è quel dormiveglia... Mi sono girato dall'altra parte e ho continuato a dormire. Quindi non si è spaventato? No, no. Si sente sicura a casa sua? No, non mi sento neanche sicura perché la mia casa è una casa del 1920. Quindi è rimasto in casa, non è uscito? No, sono rimasto in casa e magari abbiamo dormito sul divano per precauzione, ma nulla di più. Senta, se dovessero essercene altre nei prossimi giorni, cosa farà lei, la sua famiglia? Cosa farete? Non lo so. Per il momento penso che la casa dove siamo è abbastanza sicura. Poi preghiamo sempre Dio che non ce ne siano altre, ecco. Se il fenomeno dovesse ripetersi nei prossimi giorni, cosa farà? Bella domanda. Eh, che ne so, boh. Dipende da quello che fa il resto della famiglia. Dormirai in macchina oppure dormirai in casa però pronto a scappare? Eh, cambio casa, vado al mare. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Procura di Pescara contro la sentenza del GUP che aveva derubricato il capo di imputazione della vicenda della discarica di bussi sul Tirino da avvelenamento di acqua e almeno grave di adulterazione. Il GUP nel maggio del 2011 aveva rinviato a giudizio 19 imputati tra ex amministratori e vertici Montedison ma aveva assolto i vertici di Ato e Aca dopo aver depotenziato il capo di imputazione. Con la sentenza emessa la Cassazione ha rinviato al GUP in un luogo a procedere sul reato depotenziato disponendo un nuovo procedimento, probabilmente indicando come reato da valutare quello più grave. Ha inoltre dichiarato inammissibile ricorso di codice della stessa procura in merito a turbativa d'asta. Qualora un nuovo GUP a Pescara dovesse rinviare a giudizio i vertici Aca e Ato per avvelenamento tutto il procedimento giudiziario ripartirebbe da capo non più a Pescara ma alla Corte d'Assise di Chieti. Ed è stata rinviata il 12 febbraio 2013 per consentire la trascrizione delle intercettazioni l'udienza davanti al GUP del Tribunale di Pescara relativa all'inchiesta sulla realizzazione a termo di un impianto di bioessiccazione dei rifiuti che nel settembre 2010 portò all'arresto dell'ex assessore regionale alla sanità Lanfranco Venturoni e dell'imprenditore Rodolfo Dizio. Nell'udienza di oggi il GUP ha deciso di conferire al perito l'incarico di trascrivere le intercettazioni tra cui quattro telefonate tra Dizio e il senatore del PDL Fabrizio Di Stefano iscritto nel registro degli indagati. Confermata in Cassazione la condanna a cinque anni di reclusione per due ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali. Lo stupro fu commesso fuori da un locale di Lanciano nel 2005 e la vittima era all'epoca minorenne. Dovranno scontare una condanna a cinque anni con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici Angelo Romito, 27enne di Torre Annunziata e Mirco Spinelli, 25enne di Casoli arrestati dai carabinieri di Lanciano con le accuse di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il loro ricorso confermando quindi le sentenze di primo e secondo grado. I fatti risalgono a fine autunno 2005. Le indagini degli uomini dell'arma coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano hanno accertato che una ragazza minorenne all'epoca venne adescata in una discoteca di Lanciano da un giovane complice degli arrestati con il quale poi decise di appartarsi in una strada isolata sotto un tunnel poco distante dalla discoteca. All'improvviso spuntarono Romito e Spinelli che prima iniziarono a palpeggiare la ragazza contro la sua volontà e successivamente abusarono di lei. Tornata a casa la vittima raccontò l'accaduto ai genitori ed insieme si rivolsero ai carabinieri di Lanciano per sporgere denuncia. Le indagini scattate immediatamente permisero di giungere all'emissione di due ordinanze di custodia cautelare nei confronti dei responsabili. La procura di Pescara ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di Roberto Straccia lo studente universitario 24 anni scomparso da Pescara il 14 dicembre 2011 e ritrovato cadavere il 7 gennaio sulla costa di Bari. Straccia era uscito dal suo appartamento per andare a correre in abbigliamento sportivo e da quel momento di lui non si è saputo più niente fino al ritrovamento del corpo. Nelle motivazioni relative alla richiesta di archiviazione il PM ha spiegato che non sono emersi i fatti di reato non si parla espressamente di suicidio ma di caduta accidentale o volontaria. I parenti, i periti di parte sostengono che Roberto sia caduto in acqua in stato di incoscienza e dunque uno stato di narcosi le cui cause sono tutte da chiarire. L'autopsia ha accertato la morte per annegamento quindi Roberto era vivo quando è caduto in acqua ma sul suo corpo non sono stati trovati segni di violenza. La famiglia e gli amici escludono in maniera categorica il suicidio. Ora il GIP dovrà decidere se procedere all'archiviazione o chiedere ulteriori indagini. Parcelle d'oro all'avvocato buongiorno. L'associazione Codici presenta un esposto alla procura della Corte dei Conti sulle spese sostenute dall'ACA. Gli avvocati interni ci sono, ma l'ACA si è affidata ad uno studio esterno per difendere l'ex presidente Bruno Catena, il direttore generale Bartolomeo Di Giovanni e Lorenzo Livello, dirigente tecnico. A denunciarlo è Codici che riferisce alla stampa di una parcella da oltre 100 mila euro dell'onorevole Giulia Buongiorno. La richiesta di saldo da parte del legale di fiducia, tra gli altri di Giulio Andreotti, sarebbe giunta all'azienda consortile acquedottistica di Pescara a settembre scorso. Le spese legali, afferma Domenico Pettinari di Codici, sono rimborsate per legge, nei limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura dello Stato, ai dipendenti delle amministrazioni statali, se il procedimento si conclude con sentenza o provvedimento che escluda la responsabilità degli stessi dipendenti, per cui le somme in questione dovrebbero essere anticipate da chi è coinvolto nel procedimento, per poi essere rimborsate. E comunque, dice ancora Pettinari, dei tre soggetti interessati a questa vicenda, Bruno Catena non è dipendente dell'ente, ragion per cui sarebbe comunque escluso dal rimborso. Ecco quindi motivato l'esposto alla locale procura e alla Corte dei Conti. Viene fuori che da una parcella dell'avvocato Buongiorno, che difende l'ex presidente dell'ACA Bruno Catena, il direttore generale Bartolomeo Di Giovanni, l'ingegnere Livello per il processo di Bussi, una parcella di 140 mila euro, viene fuori che l'ACA ha già anticipato delle somme e adesso dovrà saldare l'intero importo. Ma la legge che cosa dice? Ecco, altra violazione che abbiamo scoperto. Che solo i dipendenti dell'ACA possono chiedere il rimborso delle spese legali all'ente, quindi all'ACA. Qui invece il rimborso, c'è stata un'anticipazione. Il rimborso l'ha chiesto anche l'amministratore, cioè l'ex presidente Bruno Catena, che non rientra nel numero dei dipendenti. Quindi Bruno Catena, che a nostro avviso doveva pagarsi lui di tasca propria l'avvocato, lo ha fatto pagare all'ACA SPA. Quindi la collettività al danno si aggiunga la beffa, perché la collettività paga due volte. Paghiamo gli avvocati interni, perché ogni mese gli dobbiamo dare lo stipendio, e gli avvocati esterni a cui continuamente si fa il ricorso. Noi abbiamo denunciato queste cose alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, chiediamo appunto che si inneschi anche questa volta un'inchiesta giudiziaria, per fare chiarezza, perché la collettività ne paga costantemente le spese sulla bolletta dell'acqua, sulla fattura dell'acqua. Denaro e preziosi per un valore di circa 7 mila euro, e questo è il bottino di un furto avvenuto nell'abitazione di una signora di 87 anni a Miglianico. L'anziana ha raccontato ai carabinieri di Ortona che due giovani, fingendosi dipendenti Enel, avevano bussato alla sua porta con la scusa di dover effettuare dei controlli al contatore, mentre uno dei due distraeva l'anziana facendole notare che vi era un guasto, l'altro si intrufolava nella camera da letto per fare razzia di denaro e preziosi custoditi in un cassetto del comodino. Solo al rientro a casa del figlio, la donna si è resa conto di essere stata vittima di un furto. Le indagini proseguono. Le imprese della filiera turistica della provincia di Chieti incontreranno tour operatori e giornalisti della carta specializzata enogastronomica per il workshop d'affari by Costa dei Travocchi in programma a San Vito Chietino. Le imprese della filiera turistica della provincia di Chieti si ritroveranno venerdì 2 novembre al workshop d'affari by Costa dei Travocchi a San Vito Chietino, promosso all'interno di un più ampio evento organizzato dalla Camera di Commercio per la promozione e la commercializzazione dell'offerta turistica della Costa dei Travocchi. Il programma completo si svolgerà dal 1 al 4 novembre con un workshop turistico, un educational tour per gli operatori turistici buyers e un press tour per giornalisti. Sia gli operatori buyer come le agenzie di viaggio, tour operator, cralle e turismo associato che i giornalisti della stampa specializzata enogastronomica avranno modo di visitare le bellezze caratteristiche della Costa dei Travocchi dal patrimonio artistico e culturale a quello ambientale. Saranno circa 30 operatori italiani e qualche estero che opera stabilmente in Italia a valutare offerte di turismo per gruppi e individuali. I prodotti turistici di interesse sono mare, verde natura, sportivo, enogastronomia, culturale e religioso. L'evento si svolge nell'ambito del progetto Costa dei Travocchi che Vorrei che vede come protagonisti la Camera di Commercio di Chieti e le associazioni di categoria della provincia. Paola Sabella, segretario generale della Camera di Commercio. È un'iniziativa molto importante che vede coinvolte nuove associazioni di categoria che per la prima volta hanno lavorato insieme per valorizzare il nostro territorio con il coordinamento della Camera di Commercio di Chieti. Questo progetto Costa dei Travocchi che Vorrei e questo in particolare che oggi stiamo illustrando by Costa dei Travocchi è un progetto che ha avuto un successo strepitoso che noi come Camera di Commercio intendiamo sicuramente rifinanziare e riproporre anche nell'anno prossimo perché è molto importante creare forme di aggregazione tra le imprese del settore che sono microimprese. Sitin degli studenti a Pescara per difendere la scuola pubblica oltre mille ragazzi di quasi tutti gli istituti della provincia hanno manifestato in Piazza della Rinascita per protestare contro Italia la scuola e tutelare i diritti e la libertà degli studenti. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della mobilitazione promossa contro i provvedimenti contenuti nella DDL stabilità dagli insegnanti ora sostenuti anche dagli alunni. In tutte le scuole del Pescarese sono in corso autogestioni e blocchi didattici che vedono coinvolti non solo studenti ma anche docenti e personale scolastico nell'ambito di quella che viene definita una battaglia comune. Più calma almeno per ora la situazione nel Chietino e nel Terramano dove comunque non mancano iniziative portate avanti dai singoli istituti. E siamo ora alla pagina dedicata al calcio Serie A vigilia di campionato per il Pescara di scena domani sul terreno del Chievo ultima spiaggia per il tecnico Stroppa che rischia la panchina. Sarà Emilio Stinelli di Como a dirigere l'incontro Chievo-Pescara in programma domani ore 20.45 presso il 20.00 godi di Verona valevole come decima giornata del campionato Serie A team inutile sottolinearlo il Pescara si gioca il proprio futuro mentre Stroppa la panchina nel suo primo anno di Serie A troppo pesante la contestazione del popolo bianco-azzurro che ha preso di mira soprattutto l'allenatore per indurre la società alla fiducia ad oltranza chiaro che in caso di ennesimo passo falso e prestazione sottotono a pagare per tutti sarà proprio Stroppa intanto Jonatas ha recuperato ed è partito con la squadra il brasiliano dovrebbe sedere però inizialmente in panchina dunque Spazio ha abbruscato ex di turno in campo dal primo minuto al posto di Vukusic Colucci invece andrà in panchina con Blasi titolare al centro e Cascione mezzala sinistra il 4-3-2-1 diventerà un 4-4-1-1 in fase difensiva con Baes che arreterrà sulla fascia destra e si punterà sulla buona vena di Quintero sentiamo mister Stroppa se la colpa è di Stroppa se Stroppa non riesce a farmi esprimere vabbè che contestino me non mi cambia la vita mi dispiace questo lo sottolico sono molto dispiaciuto però continuo a credere nel lavoro che la squadra sta facendo e vedo che c'è la possibilità di migliorare tanto Alcune novità nel Chievo Corini rilancerà Guana a centro campo e Temagi dovrebbe essere preferito a Marco Rigoni in attacco scoccherà l'ora di Pellissier al quale i Veneti si aggrapperanno per ritrovare la via del gol Chievo Verona in campo con il 4-3-3 la grande sfida è servita col Pescara che non può e non deve sbagliare e la Serie B sarà invece in campo questa sera per la dodicesima giornata del campionato è appena terminata Ternana-Sassuolo finita 1-3 allo stadio Guido Biondi il Lanciano riceverà il Livorno questa sera vi aspetto alle 20.15 per un nuovo appuntamento con Casa Virtus è tutto vi ricordo che i servizi e approfondimenti sono disponibili sul sito tgmax.it grazie per essere rimasti con noi arrivederci a domani grazie a tutti